Conferenza stampa questa mattina indetta dal dirigente scolastico del liceo scientifico Nuzzi di Andria, il professor Filannino, per chiarire la questione riscaldamento e consegna delle nuove aule. I dettagli nel servizio di Marilena Pastore. Aule nuove al liceo scientifico Nuzzi di Andria dopo anni di attesa realizzate ma ad oggi inutilizzate. È un paradosso quello che sta vivendo il liceo. Le aule nuove sono realizzate su due piani mentre quella è il pian terreno utilizzate già dal mese di settembre e quindi con l'inizio del nuovo anno scolastico sono state utilizzate fin da subito e riscaldate attraverso la realizzazione di un bypass termico realizzato a proprie spese dall'impresa stessa. Le aule poste al piano superiore invece non sono riscaldate perché manca semplicemente l'allacciamento. Uno spreco denuncia il dirigente scolastico Filannino che ha convocato una conferenza stampa per chiarire quanto sta accadendo. Alla fine di settembre la provincia BAT ha disposto il cambio del dirigente dal settore edilizia scolastica e contestualmente si sono interrotti i pagamenti degli stati di avanzamento legittimamente richiesti e formalmente approvati a favore dell'impresa costruttrice. In conseguenza di ciò l'impresa ha ufficialmente comunicato la sospensione dei lavori e nei fatti il cantiere è fermo. Filannino pone delle questioni molto semplici a cui si attende una risposta da parte dell'ente provincia. Innanzitutto l'intero finanziamento ricorda Filannino e nella disponibilità della provincia essendo effetto di un mutuo e di fondi rinvenienti dall'ex provincia di Bari perché i pagamenti sono stati interrotti. In secondo luogo in un momento in cui l'allarme sismico è molto alto chiede Filannino non si procede speditamente alla consegna dei lavori del piano superiore che danno invece ampie garanzie di sicurezza ben maggiori di quelle degli edifici più vecchi. E terzo il dirigente in definitiva chiede come e quando intende la provincia consegnare l'intera opera posto che il termine di consegna dei lavori è già scaduto da quattro mesi ovvero a settembre. Non sappiamo il motivo vero qual è. Sappiamo solo che l'impresa costruttrice ha a buon diritto sospeso i lavori in quanto vantava dei crediti che non sono stati saldati e i lavori sono fermi da settembre. Anche se la data di consegna dei lavori è appunto scaduta a settembre. Quello che diciamo è veramente importante sapere è che ci sono al piano superiore dieci aule che sono eccellenti dal punto di vista sia sismico sia di qualunque altra utilità e che sono attualmente non utilizzate. Questo è un paradosso e uno spreco di denaro pubblico e non c'è alcun motivo per cui questa situazione debba continuare. Quindi noi invitiamo il presidente della provincia e il dirigente del settore a risolvere veramente con urgenza questo problema perché noi potremmo entrare in possesso di quelle aule io credo nel giro di due settimane. Ho invitato sabato prossimo il presidente ad un'assemblea qui a scuola affinché ci dia dei chiarimenti, delle rassicurazioni e soprattutto non delle rassicurazioni verbali ma delle rassicurazioni operative. Cioè noi vogliamo vedere l'impresa che riprende i lavori e li conclude rapidamente così come rapidamente è stato in grado di realizzare un edificio che come avete visto è abbastanza imponente. Mentre in tutte le parti d'Italia oggi ci sono seri problemi per le scuole dal punto di vista sismico noi qui assistiamo a un paradosso. Abbiamo una scuola che è stata costruita con dei pilastri in acciaio che garantiscono al 100% il meglio in fatto di protezione antisismica e le dieci aule di sopra sono vuote mentre i ragazzi stanno nel vecchio edificio che sicuramente non ha le stesse potenzialità di questo. È uno spreco, è inconcepibile.